allora grazie ancora riprendiamo le lezioni interdisciplinari proprio con questo titolo abbiamo iniziato questa collana di anche di conoscenza di allargamento della conoscenza su terreni più diversi tra loro e con piacere che oggi ospitiamo il professor Prosperi proprio per una lezione anche un po' eccentrica rispetto al percorso fin qui fatto dalla scuola interdisciplinare che però ci arricchisce proprio per questa capacità di allargare lo sguardo anche su terreni poco frequentati come quelli storici intanto do la parola subito a piero ricordo che questa come tutte le altre lezioni saranno disponibili sul sito di transform italia e che ci auguriamo che possa rispondere anche l'interesse di chi al di fuori del nostro giro possa usare anche i nostri materiali per promuovere eh conoscenza anche al di fuori di noi Piero a te la parola grazie grazie Roberto allora un grazie di cuore ad Adriano Prosperi che ha accettato eh con entusiasmo di svolgere per noi questa lezione oggi pomeriggio una lezione su l'inquisizione romana secondo le fonti d'archivio e dico subito che poi lo spiegherò un po' eh più avanti che eh e a proposito di quanto diceva appena adesso Roberto eh questa lezione eh e molto sarà io credo molto meno distante e diciamo dai temi di cui prevalentemente ci occupiamo di quanto non si pensi allora la prima informazione sul nostro ospite che eh credo eh obbligatorio a dare è che Prosperi è uno dei maggiori studiosi se non in assaluto il maggiore studioso internazionale dell'inquisizione romana quindi non potevamo avere nessuno diciamo nessuno docente meglio di lui per presentare questo tema ai agli amici e alle amiche della della scuola della scuola interdisciplinare. Prosperi si è formata alla scuola normale di Pisa eh ed è uno storico come sappiamo dell'età moderna ha cominciato la sua eh carriera di docente all'Università della Calabria e mi piace ricordarlo perché eh diciamo eh molti molti giovani docenti universitari italiani hanno eh hanno iniziato la propria carriera eh studenti di i docenti di tutte le discipline economia storia letteratura sociologia e diventando poi alcuni dei più diciamo eh autorevoli eh docenti dell'Università italiana eh e voglio ricordare che allora è l'Università della Calabria appena formata nei primi anni settanta costituiva eh diciamo un avamposto culturale importantissimo per la regione ma anche una grande novità sperimentale perché era il primo campus universitario italiano per il nostro per il nostro paese. Ehm Prospero ha poi insegnato all'Università di Bologna, all'Università di Pisa e infine alla scuola normale superiore e un accademico dei lincei. Allora a me piace ricordare che oltre ad avere una imponente bibliografia di storico ha anche svolto un'intensa attività pubblicistica collaborando dal Corriere della Sera al Domenicale del Sole 24 ore eh eh per almeno dieci anni ha collaborato a Repubblica eh con articoli davvero insoliti per profondità e ampiezza di sguardo eh che io come tanti altri italiani abbiamo letto con sempre con grande ammirazione. Questi articoli sono finiti lo dico per chi volesse rileggerli o leggerli opportunamente in un libro pubblicato da Enaudi con l'amaro titolo Cause perse. Eh Prosperi che è un grande accademico tuttavia è sempre stato sensibile ai problemi dell'ambiente e ha condotto le sue battaglie ad esempio eh quella in difesa del Padule di Fucecchio che ha più grande parude interna eh dell'Italia per la difesa delle Alpi eh Apuane e così via. Come potete immaginare ha un'imponente eh produzione scientifica di cui vi ricordo solo eh alcuni dei titoli più recenti trascurando naturalmente le tantissime curatele eh da solo o con altri o con altri studiosi. Allora ricordo Tribunali della coscienza, inquisitori, confessori, missionari, Enaudi 1996 e varie altre edizioni eh un testo che ha aperto un dibattito internazionale di grande interesse, di grande portata sulle questioni e sul modo con cui eh eh prosperi diciamo eh disegna e caratterizza eh la eh l'inquisizione italiana. Poi ricordo il concilio di Trento e la controriforma UCT 1999, i tre volumi di Eresia e Devozione, la religione italiana in età moderna che sono edizioni di storia e letteratura pubblicate nel 2010. La vocazione, storia dei Gesuiti tra cinque e seicento, Enaudi 2016. È un testo diciamo di ricorda anche un testo di storia contemporanea eh che rivela il suo amore per il mondo contadino, per il mondo per il mondo del lavoro in generale, un un volgo disperso, contadini d'Italia nell'ottocento e Enaudi nel 2019. infine ma non è neppure l'ultimo delle cose da lui pubblicate ma che devo almeno ricordare è una rivoluzione passiva chiesa intellettuali e religione nella storia d'Italia. Enaudi 2022. Ora già il titolo secondo me rivela l'attitudine storiografica di Adriano Prosperi e cioè un'attitudine storiografica profonda eh che diciamo mostra che la sua ricerca non rimane circoscritta in un ambito eh diciamo tematicamente eh così specifico no? Eh e neppure eh eh specifico e chiuso sotto il profilo cronologico eh cioè l'inquisizione i suoi temi prevalenti sono l'inquisizione, la chiesa, la religione del Cinquecento. Eh Prosperi intende attraverso questi studi profondi, durati anni e anni di ricerca eh d'archivio intende dare eh come dire una spiegazione profonda eh della formazione della coscienza italiana e della coscienza italiana e io aggiungerei diciamo della mentalità degli italiani ricordando che la mentalità come come si esprimeva Fernand Brodel è la più tenace delle strutture cioè la mentalità è diciamo una una forma eh di lettura del mondo che ha uno una durata lunghissima e che condizione la storia eh dei dei paesi. Ecco eh io non voglio farla lunga eh credo che eh Adriano eh entrerà diciamo più più profondamente nel merito anche di quest'ultimo aspetto e ora gli do la parola spero che mi abbiate visto perché sul mio schermo compare una una freccia sul fondo rosso che non so che significhi. Grazie Adriano a te la parola. Grazie a te per tutte le belle cose che hai detto di me ma adesso li deluderò eh parlando di persona di questo tema che tu mi hai invitato a trattare che come dicevi appunto ha costituito lo sfondo di molti miei studi di alcune riflessioni e quindi comincerò dicendo che eh questo titolo che mi hai proposto che ho accettato di parlare dell'inquisizione alla luce delle carte d'archivio mi chiede di entrare diciamo nella carne e nel sangue dell'operato dell'inquisizione senza troppe troppi preamboli quindi dirò soltanto che conoscere queste carte d'archivio è stato un desiderio costante eh prima che degli storici di allora e successivi e soprattutto contemporanei è stato un desiderio anche delle altre confessioni cristiane sorte in Europa i calvinisti i luterani e così via eh erano inaccessibili custodite negli archivi ecclesiastici e trattate come confessioni il titolo appunto inquisizione confessione vanno sempre un po' insieme come confessioni e quindi come tale eh sepolta in quello che doveva essere il segreto più indiolabile si pensi che perfino la la figura di pastor il grande storico cattolico tedesco eh non riuscì pur lavorando per anni e anni nell'archivio che allora si chiamava segreto vaticano oggi non più eh non riuscì mai ad avere accesso alle carte del sant'uffizio dell'inquisizione eh la risposta a chi chiedeva eh di conoscere queste carte era appunto che non si potevano aprire perché erano coperte dal segreto confessionale un segreto sacro terribile oggi non lo sono più il sacro è sparito nel 1998 il cardinal eh Ratzinger allora prefetto della congregazione che già allora si chiamava della dottrina della fede da diversi anni da quando cioè nel 1965 papa eh Montini papa Paolo VI aprì diciamo eh aprì intanto eh il primo il primo spiraglio verso l'archivio cambiandone il nome si chiamava fino ad allora santo uffizio della inquisizione romana e da quell'anno si chiamò appunto congregazione per la dottrina della fede da da per l'inquisizione a per la dottrina della fede ma a quella data quando il cardinal Ratzinger eh di carola apertura agli studiosi di questo archivio eh in realtà eh la quasi totalità dei processi cioè delle registrazioni verbali delle deposizioni degli interrogatori degli inquisiti non c'era non c'era più non c'era più era diventato un deposito eh imponente imponentissimo ma soprattutto imbarazzante perché col tempo l'immagine che si era diffusa nel mondo soprattutto l'età dell'illuminismo diciamo eh della inquisizione era un'immagine eh cupa e dura e tanto che Napoleone fece deportare tutte quelle carte e molte altre carte degli archivi italiani a Parigi eh dove dovevano costituire il monumento alla libertà e imposta dalla diciamo dall'illuminismo ma soprattutto dalla rivoluzione francese e dall'opera napoleonica e in cima a questo deposito doveva troneggiare il processo allora più celebre cioè il processo a Galileo Galilei il documento della volontà diciamo della Chiesa di tenere diciamo la popolazione umana all'oscuro della scoperta di Copernico e delle scoperte di Galileo che infatti in un suo appunto segreto eh ci so questo appuntamento quando la Chiesa avrebbe dovuto dichiarare che la sua verità era falsa ebbene quei documenti non tornarono a Roma perché quando Napoleone cadde chi fu mandato a recuperarli preferì mandarne la maggior parte al macero fu usata diciamo quella documentazione eh dai pesciaioli delle hall oppure fu presa casualmente da persone interessate che le portarono in archivi dove poi sono state sono state reperite e studiate quindi capire che cosa succedeva lì chi vi era preso che cosa soffriva naturalmente in assenza di documenti eh si diffusero leggende leggende terribili su prigioni dove le persone rimanevano per tutta la vita perché c'era una punizione che si chiamava al carcere perpetuo in realtà era un carcere che durava raramente più di tre anni e altre descrizioni altrettanto fantasiose partorite proprio da questa immagine questa immagine terribile quindi partiamo rapidissimamente da una definizione di inquisizione inquisizione è stata in realtà un progresso nella pratica penalistica perché è succeduta a forme di eh diciamo eh processi in cui che erano solo scontro tra tra individui processi privati oppure a prove di tipo eh diciamo eh fantasioso affidato a risultati di di tentativi vero che avevano del miracolistico e nacque nel dodicesimo secolo per indicare un processo istruito da un'autorità pubblica davanti alla quale si dovevano recare i litiganti e dove appunto si ascoltavano le dichiarazioni dell'uno e dell'altro se ne prendeva registrazione completa scritta e si procedeva poi alla ricerca della verità nello stesso periodo appunto in cui questo processo avveniva nei comuni italiani eh il papato regolamentò la questione della diciamo della maniera per cui gli imputati di eresie o di altri reati ecclesiastici eh potevano essere inquisiti e lo fece nel concilio la terrense terzo per opera di papa innocente papa scusa il concilio la terrense quarto per opera del papa innocenzo terzo nei decreti di questo concilio si stabilì appunto tra le altre cose che la diciamo la procedura di diciamo di ricerca della verità doveva procedere attraverso un ascoltatore che registrava tutto quello che gli veniva detto procedeva poi alla tortura che era allora il passaggio normale per assicurarsi assicurarsi che il diciamo il imputato eh avvertisse diciamo la sua condizione eh e la verità gli venisse anche grazie alla sofferenza e la inquisizione ecclesiastica quindi da questo momento dal concilio della terrense quarto viene affidata sede per sede dove c'erano i conventi dei frati francescani e domenicani veniva affidato appunto a uno a uno di questi frati francescani o domenicani che diventava l'inquisitore del luogo questa è l'inquisizione medievale di cui non parlerò invece l'inquisizione che nasce subito dopo è l'inquisizione spagnola questa sì temibile e temuta che nel 1474 venne concessa dal papa ai sovrani spagnoli nominando un inquisitore generale che si chiamava che si chiamava eh un personaggio noto eh famigerato Tommaso da Torquemada il termine Torquemada è diventato quasi sinonimo di colui che impone delle sofferenze e questa inquisizione spagnola fu un tribunale politico gestito dai re cattolici come vennero chiamati e durò in Spagna fino all'ottocento il modello spagnolo cioè di un inquisitore centrale con un potere su tutta eh su tutta l'area e sui minori inquisitori questo modello spagnolo venne copiato adottato eh in Italia da papa Paolo III e questo avvenne con una bolla papale del 21 luglio 1542 fu nominato allora un tribunale composto da sei cardinali con giurisdizione su tutta la chiesa eh questo voleva dire che tutte le minori inquisizioni fratesche luogo per luogo diocesi per diocesi dovevano rispondere a questa inquisizione centrale questo bisogno di accentramento quindi fa avvertire l'aria della dell'epoca nuova e segna un passaggio fondamentale nella storia del rapporto fra la chiesa cattolica e la giustizia eh dottrinale vero e perseguire seguimento delle eresie era composta da sei cardinali come dicevo con giurisdizione su tutta la chiesa e presieduta direttamente dal papa si riuniva una volta la settimana il giovedì il giorno dopo appunto con il commissario generale dell'inquisizione eh procedeva agli adempimenti che erano stati decisi nella seduta precedente e comincia però col 1542 anche un'epoca nuova per la per la storia della chiesa perché eh teniamo presente che ci muoviamo nel contesto italiano del rinascimento il momento di un straordinaria fioritura intellettuale eh il rinascimento italiano eh fioritura intellettuale di libertà diciamo che ha colpito lo storico eh diciamo del del rinascimento burckhardt e e che ha una vera salda base in processi che allora avvenivano come per esempio eh si era scoperta la falsità della donazione di Costantino grazie alla filologia eh di di Lorenzo eh del grande del grande Lorenzo eh del del cuore appunto della inquisizione della eh del falso credita e e del falso credita Costantini donazione ebbene la l'epoca quindi è un'epoca di fioritura intellettuale di libertà intellettuale di grandi diciamo balzi di libertà e e questi diciamo si associavano allora anche a una grande inquietudine religiosa perché si ascoltava eh si ascoltavano si leggevano i libri delle dei riformatori religiosi a partire da quelli di Lutero poi arriveranno quelli di Calvino ma si si leggevano le tante opinioni che nascevano intorno alle dottrine della chiesa e si coltivavano diciamo eh fantasie e desideri di di mutamento anche nella storia della religione romana della religione praticata in Italia eh siamo nell'epoca in cui quasi contemporaneamente alla nascita del santo ufficio dell'inquisizione romana eh si metteva in circolazione un libretto anonimo che si intitolava trattato utilissimo del beneficio di Cristo per i cristiani è un libro che esce anonimo su chi l'ha scritto le discussioni dovevano durare a lungo eh quel che è certo è che raccoglieva le opinioni di un circuito che è stato definito degli spirituali che si muovevano tutti diciamo intorno alle idee diciamo diffuse dalla riforma luterana e dal movimento dell'umanesimo eh in direzione cioè di una religione che si fondasse sulla imitazione di Cristo e che non diciamo praticasse più quel sistema delle opere diciamo sancite da norme tradizioni confraternite eccetera ma semplicemente si affidasse al perdono di Cristo a quel perdono che Cristo aveva guadagnato per tutta l'umanità morendo sulla croce questo era il nucleo fondamentale della dottrina del beneficio di Cristo che veniva letto da personaggi di grande livello eh nella struttura ecclesiastica cardinali ero generali di ordini religiosi e quindi la diciamo nascita della eh inquisizione romana eh fu un segnale molto preciso che venne avvertito un segnale molto preciso che nacque anche per il fatto che in una delle corti italiane sapete che appunto l'Italia allora era divisa in molti stati e staterelli nella corte di Ferrara c'era una duchessa eh renata detta renata di Francia perché da lì veniva appunto la la sposa del duca eh si era portata dietro eh diciamo un gruppo di cortigiani fra i quali c'erano dei riformatori c'era per esempio eh il più celebre di loro appunto Giovanni Calvino un uomo di legge un esperto di legge che come studente aveva fatto aveva partecipato ad un'azione diciamo di 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 grande di grande coraggio perché aveva diffuso dei manifestini contro la messa nella reggia di Francesco I il re di Francia e poi ha scappato rifugiandosi appunto a Ferrara e lì a Ferrara si sapeva che eh alla corte della duchessa ci si comunicava eh ci si comunicava eh senza diciamo senza le pratiche cattoliche eh ci si discuteva delle dottrine si raccoglievano anche intellettuali italiani eh che fuggivano da da luoghi meno meno sicuri e quindi nasce il eh la volontà di una svolta e la svolta colpisce diciamo per passare finalmente alle carte alle carte che riguardano la sorte delle persone eh colpisce quello che fu allora il predicatore più straordinario più 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 apprezzato più celebrato ovvero eh frate Bernardino detto Bernardino Ochino perché era originario eh da Siena eh apparteneva alla contrada dell'oca eh Bernardino Ochino era un francescano che aveva dato vita all'ordine dei cappuccini una diciamo una specie di frammento dell'ordine francescano che si imponeva una regola più severa ed era caratterizzato appunto dal cappuccio che portava come predicatore Bernardino Ochino percorreva allora le città d'Italia che predicò a Napoli davanti all'imperatore Carlo V a Napoli si incontrò con un eh con un eh fuggiasco spagnolo che si chiamava Juan de Valdés eh di una famiglia molto elevata appunto è molto è molto potente Juan de Valdés si era rifugiato a Napoli perché l'inquisizione di Spagna aveva cominciato a sentire odore di eresia e l'incontro fra Ochino e Valdés fu un incontro come dire ad alto livello all'insegna di una religione cristiana eh diciamo eh semplificata concentrata tutta sulla imitazione di Cristo e quando Bernardino Ochino se ne venne via andò a predicare a Verona e lì lo raggiunse un invito a recarsi a Roma con un pretesto un pretesto lui non sapeva che era nata l'inquisizione ma partendo da da Verona si fermò a Firenze e lui si incontrò con un confratello di un altro ordine Pietro Martire Vermigli eh che lo avvertì che a Roma era nata l'inquisizione e gli suggerì di fuggire. Fuggirono a Ambedue, attraversarono le Alpi e si rifugiarono a Ginevra dove intanto Calvino aveva costruito su questa città e il suo territorio, aveva fatto cacciare il vescovo che era il vescovo di Torino e lì era nata una una repubblica religiosa, una repubblica della libertà religiosa che non era in realtà diciamo libertà assoluta, la libertà secondo la confessione religiosa di Calvino che aveva scritto un'opera che ebbe allora un successo straordinario, la sua opera principale appunto che fu allora diffusa e aveva preso il potere sostanzialmente un potere ecclesiastico, duro, non diciamo non indifferente alle idee che la gente si portava dietro e quindi dalla città di Ginevra sia il Vermigli sia Bernardino Chino dovettero andarsene ancora, andarono in Inghilterra e lì che Vermigli rimase e diventò un professore di teologia di altissimo livello, naturalmente diciamo di una teologia estremamente riformata, diversa da quella da quella che allora era la teologia ortodossa cattolica. Rimase e divenne quindi questo grande autore diciamo molto seguito, ovvero un docente eccetera. Invece Bernardino Chino cercando la realizzazione di questo ideale di imitazione di Cristo continuò a viaggiare in Europa e diciamo condusse la sua esistenza fino alla Polonia e finì appunto finì lontano dall'Italia, poverissimo assistito da un tessitore presso il quale si era rifugiato. Quindi è una storia di vite, cominciano le vite che furono chiamate le vite di fede da Benedetto Croce, vite di fede. Entriamo però nel vivo dei processi dell'inquisizione. Che cosa fece l'inquisizione romana una volta creata? Uno si aspetta appunto una, come dire, un impulso formidabile in direzione della, diciamo, dell'identificazione degli eretici e della lotta contro di loro. Non fu così, non fu così. Il processo più importante avviato da quello che era il grande inquisitore, cioè il cardinal Gianpietro Carafa di famiglia, di alto locata famiglia nobile, il processo più importante della sua vita fu quello contro i suoi confratelli, contro un paio di suoi confratelli. In primo luogo fu preso di mira una straordinaria figura di cardinale inglese parente del re d'Inghilterra che si chiamava, si chiamava, non dunque, prima di tutti prese di mira appunto il cardinal Giovanni Morone, ma poi anche il cardinale Reginald Paul, perché, come dire, per spiegare, senza entrare nel merito di questi processi, per spiegare perché avviene questo caso strano, diciamo, di un tribunale che permette a chi lo gestisce, vero, di inseguire accanitamente ogni odore di eresia e invece questo tribunale viene gestito dal suo titolare contro quelli che sono dei suoi pari grado. Come dire, è un modello che si ripete nei regimi assolutistici dove c'è un potere centrale. Gianpietro Carafa eliminò intanto il suo, diciamo, antagonista, che era questo mitissimo cardinale Reginald Paul, inglese, che aveva tutte le carte in mano e nel conclave del 1550 andò vicinissimo a essere eletto. Lo chiamavano il cardinal anglico, ma lo dicevano anche il cardinal angelico, perché aveva fama di mistico, aveva fama di grande dolcezza e in questo conclave Gianpietro Carafa entrò sfogliando un fascio di carte dicendo, ho qui le prove dell'eresia di Reginald Paul, quindi lo accusò di eresia in pieno conclave, sventolando questo, che non si è mai trovato, fantomatico processo inquisitoriale contro di lui, Reginald Paul non reagì, rimase in silenzio, si ritirò e fu bocciato e non toccò a lui essere eletto Papa quella volta e quindi questo fu il primo uso del tribunale romano. Il secondo fu quello contro il cardinal Giovanni Morone, un altolocato personaggio, lombardo, che era un bravissimo uomo, come dire, da usare nella diplomazia. Fu lui poi in anni successivi, in anni anche molto successivi, a gestire la sorte del concilio di Trento trattando con l'imperatore, dedicandosi appunto a queste azioni diplomatiche. In questo caso fu accusato di essere uno spirituale. Il termine indicava quelli che leggevano l'opuscolo anonimo, il trattato del beneficio di Cristo, veniva accusato di essere uno spirituale e quindi fu imprigionato immediatamente, mentre si recava in Vaticano appunto per pratiche normali, venne incarcerato all'improvviso e rinchiuso in galera e fu aperto contro di lui un processo raccogliendo tutte le testimonianze possibili sulle sue eresie. È un evento clamoroso, però anche questo processo, che questo processo appunto è anche la prova di come nella organizzazione, nello stile dell'inquisizione romana, diciamo, fossero molto importanti le regole giuridiche. Il processo fu fatto secondo le regole, il cardinale fu interrogato, furono raccolti tutti gli indizi contro di lui e si procedette al solito, diciamo, con questo stile che permetteva all'inquisitore di conoscere, prima ancora di farsi figurare davanti l'imputato, di conoscere tutte le prove contro di lui. Tutte le prove sono scritte, tutte le deposizioni sono raccolte, si forma questo grande fascicolo, ma con lentezza, perché per fare questo ci vuole del tempo, ci vogliono delle ricerche che non facciano rumore, le persone devono essere interpellate e i loro discorsi devono essere verbalizzati letteralmente, la forma scritta è fondamentale. Passa il tempo e succede che non si arriva, come avrebbe desiderato Paolo, diciamo, Pietro Carafa, poi Papa Paolo IV, non si arriva alla sentenza capitale che lui voleva, diciamo, vibrare contro il Morone. Il tempo passa, Morone è in carcere, ma anche Paolo IV, Gian Pietro Carafa diventato Papa Paolo IV, muore. Il terrore che lui ha creato in giro con questo tribunale dell'inquisizione è così grande che il popolo romano aggredisce la sede del tribunale dell'inquisizione, brucia le carte, insomma ci sono dei giorni di grande rumore, di grande disordine, che mostrano con quanto odio la gente guardasse a questo tribunale. Intanto Morone rimane in carcere, ma viene liberato dal Papa successivo e il processo si interrompe. Questo processo fu poi ripreso dall'allievo prediletto di Gian Pietro Carafa, cioè il cardinale, in realtà era un frate domenicano che prese il nome di Pio V, che aveva fatto durante la sua vita precedente, aveva esercitato il ruolo di inquisitore, aveva fatto bruciare diverse persone. Quindi il suo successore riprende le fila del suo antenato, del suo creatore sostanzialmente di Gian Pietro Carafa e di nuovo Morone sarà incarcerato. Il processo durerà ancora lungo, ma non arriverà alla condanna capitale. Questo processo in realtà l'abbiamo trovato. Toccò a me scoprire che c'era in un palazzo signorile di Milano, era conservata la copia ad defensionem, cioè quando si arrivava alla fase conclusiva del processo, l'imputato aveva diritto alla nomina di un avvocato. Il suo avvocato aveva diritto a ricevere l'estratto di tutti i documenti processuali che contenevano accuse contro il suo cliente, in modo da poterlo difendere. Come vedete, come dire, anche il terribile Tribunale dell'Inquisizione aveva una norma giuridica. Ebbene, questa copia ad defensionem fu consegnata al Morone e se ne servì per la sua difesa, appunto, e questa copia è rimasta nelle mani della sorella del cardinale, la quale poi l'ha lasciata in eredità alla famiglia in cui è entrata e di fatto io l'ho scoperto nel palazzo milanese Gallarati Scotti, di questa alta famiglia cattolica milanese, ho potuto consultarlo. Ho potuto consultarlo e ho scoperto appunto che è veramente un processo monstro, perché c'è tutta una serie di incartamenti specifici che riguardano tutti i personaggi che erano passati attraverso il circolo spirituale in cui si muoveva il Morone, diciamo tutto questo circolo dei cosiddetti spirituali che, diciamo, si battevano a modo loro per accettare determinati aspetti della dottrina luterana e fondamentale fra tutte la dottrina della giustificazione perfetta, che da sola bastava, diciamo, cambiare, sconvolgere profondamente l'assetto delle devozioni, l'assetto delle pratiche religiose, dalle lemosine ai digiuni, vero? Lutero aveva scritto molto chiaramente, ecco, che quella che quella era il versetto di San Paolo su cui lui si era fermato, il giusto vivrà per fede, era la chiave per capovolgere completamente l'assetto di una religione che era dominata dal clero e era dominata per i laici dall'idea del guadagnarsi l'aldilà attraverso tante opere buone. In realtà appunto Lutero aveva spiegato che era stato Cristo a salvare tutti con il suo sacrificio e quindi bastava credere per essere salvati. Ebbene, questo processo trovò poi un suo straordinario editore, lo storico Massimo Firpo, che, diciamo, vi aggiunse una serie di ricerche di altri fascicoli dei coinputati, eccetera. Questo monumento finale, una grossa opera, in tre massicci volumi, oggi permette a tutti di leggere che cosa pensavano, non solo il Morone, ma anche tutti quelli che in qualche modo gravitavano intorno alla sua figura. Bene, con la morte di Gian Pietro Carafa cambia, diciamo, l'assetto dell'inquisizione che viene poi ripresa e rafforzata dal suo allievo, insomma, da questo Domenicano diventato Papa, che fu Pio V, che venne poi anche santificato. Ebbene, ci fermiamo su questo, vedendo, dando un'occhiata intanto a quello che accade in questo movimento degli spirituali, che coinvolge anche dei laici. Io ho citato il caso di Bernardino Chino, e ora è il caso anche di cominciare a parlare di singole figure, di singole persone che vengono intanto, diciamo, ripescate e messe sotto processo nelle città in cui vivono. Comincerò, per esempio, per parlare di un personaggio che vive a Faenza, che è un mercante, che si chiamava Fanino Fanini. Fanino Fanini è uno di questi laici colti che vivono di mercatura, vero? Teniamo sempre presente la divisione fra città e campagna quando si tratta dell'Italia, nel senso che il mondo contadino viene appena sfiorato dall'inquisizione romana. Ce ne sarà uno importante, ma non sarà un contadino, sarà un mugnaio. Molti di voi avranno probabilmente conosciuto questa figura di mugnaio che vive in Friuli e ha costruito un suo fantasioso assetto del mondo alle sue origini, che ha trovato espressione nel titolo che gli è stato dedicato dallo storico Carlo Ginzburg, il formaggio e i vermi. C'è questo, diciamo, mugnaio chiamato Menocchio, che appunto immagina la creazione del mondo, una creazione materialistica del mondo e parla di queste sue idee, vero? In un contesto, finché non viene, diciamo, raggiunto dall'inquisizione, diciamo, interrogato e il suo processo è stato trovato nell'archivio, diciamo, nell'archivio udinese, vero? Competente per la zona e la sua fine, è una fine d'arrogo, ma nel suo universo mentale si scopre, diciamo, come ci si potesse immaginare la risposta alle domande fondamentali, com'è che un uomo esiste, perché, in che mondo è nato, come è nato il mondo prima di lui, eccetera, eccetera. E qui si incrociano, diciamo, grandi filoni di mentalità che non appartengono neanche al cristianesimo. E allora il mestiere della lettura dei pensieri di figure come queste fa sì che l'inquisitore si trasformi in antropologo, cioè in una persona che non capisce cosa ascolta, cerca di approfondirlo, arriva a ricostruire nei suoi verbali le fantasie, i pensieri, i pensieri più riposti, i pensieri più originali, più insoliti, e impara che al mondo non c'è soltanto la teologia cristiana, lacerata dalle diverse scuole ideologiche, dalle diverse chiese, ma ci sono invece, diciamo, i pensieri delle persone che sono di classe diversa e che hanno, diciamo, anche mondi mentali diversi. Quindi parlavo intanto di Fanino Fanini, che appartiene appunto a questa fascia mercantile, colta, che legge libri, si converte alle idee della riforma, crede ai principi fondamentali appunto della riforma luterana, finisce però processato dall'inquisitore locale e in che modo esce dal processo? E ne esce, come molti faranno dopo di lui, abbiurando, cioè accettando di dichiarare che rinuncia a tutte queste idee e ritorna, diciamo, alla fede cattolica, la biura. La biura però poi ci ripensa e ritorna, diciamo, all'antica fede che aveva scelto, torna a predicare alla gente quello che lui credeva, viene di nuovo preso, intercerato e questa volta scatta la pena per chi, diciamo, è non solo eretico ma è anche relapso, come dicevano, cioè ricaduto, ricaduto in quello che chiamavano il vomito dell'eresia. E quando uno è ricaduto, quando uno è relapso, non c'è più possibilità di perdono. La chiesa madre diventa una chiesa unitrice e finirà naturalmente mandato a morte nel 1550. I suoi temi erano quelli, come dire, della negazione della presenza di Cristo nell'Eucarestia, il rifiuto della messa, la negazione dell'ordine sacro, cosa ci stanno a fare tutti i preti. La sua predicazione aveva anche fatto breccia in un mondo particolarmente importante di quest'epoca, cioè il mondo dei monasteri femminili. Come sapete, diciamo, man mano che il costo delle doti per sposare le figlie cresce, diciamo, continuamente anche con l'inflazione che all'epoca si faceva sentire. E allora la soluzione fondamentale, quando i genitori avevano molte figlie, era quella di metterle in monastero dove vivevano di carità o di sovvenzioni, eccetera. Naturalmente questo popolo femminile è un popolo estremamente inquieto e la predicazione luterana, che non per niente, diciamo, Lutero aveva sposato una monaca e aveva aperto e liberato le monache chiuse nei conventi. La predicazione, diciamo, luterana o comunque ereticale e non cattolica trovava molto ascolto nei monasteri, dove fra l'altro molto spesso si creavano, diciamo, rapporti non propriamente spirituali fra le monache e i loro gestori, il ramo maschile dell'ordine religioso a cui appartenevano. Quindi erano, diciamo, qualche volta dei luoghi simili a dei lupanari. Quindi la vicenda di Fanino Fanini è una vicenda triste, finisce con la sua esecuzione capitale e il suo nome è uno dei primi nomi che troviamo in un registro, in un resoconto, che veniva tenuto a Ginevra, dal registro dei condannati a morte da parte dell'inquisizione come registro dei testimoni di fede, dei testimoni, dei veri testimoni di fede. Come vedete, appunto, lo studio delle esecuzioni capitali serviva proprio per questo scopo, cioè, diciamo, la possibilità di dimostrare con gli esempi raccolti sistematicamente in questo registro, per dimostrare quanto la Chiesa di Roma fosse una chiesa diabolica perché faceva morire le persone per fede. Ebbene, casi singoli come questi ne incontriamo diversi. Si tratta appunto dal punto di vista sociale di mercanti, mercanti che leggevano libri. Naturalmente la diffusione dei libri è vista dalla Chiesa cattolica come il pericolo maggiore, tanto che il Papa Paolo IV Carafa per primo aveva pubblicato l'Indice dei libri proibiti, un elenco di libri proibiti a tutti i lettori, vero che è una specie di enciclopedia perché ci infilò tutto, fu veramente un indice spaventoso questo del 1559, però inaugurò la serie dei libri proibiti, una serie che doveva continuare per secoli e terminare nel Novecento sostanzialmente. È una specie di enciclopedia di tutta la letteratura che vale la pena di leggere normalmente appunto, ma che viene messa all'Indice, cioè se l'opera è all'Indice allora i libri non dovranno tenerla e non potranno venderla e nessuno potrà leggerla. Ebbene, la vicenda dei processi, se adesso entriamo nella, come dire, nella sostanza umana dell'opera dell'Inquisizione, dobbiamo citarne parecchi e io proverò a darne diversi per dire che varietà c'è, diciamo, in questo mondo italiano che finisce all'Inquisizione. Citerò per esempio un benedettino, un monaco benedettino siciliano, che diciamo si chiamava Giorgio Siculo e che, come dire, era confratello di colui che fu quasi certamente, diciamo, che fu certamente, anzi senza quasi, che fu certamente uno dei due autori di questo misterioso libretto del beneficio di Cristo crocifisso per i cristiani, il pra benedetto da Mantova. Giorgio Siculo, giovane monaco siciliano, andava diffondendo oralmente e poi anche attraverso la stampa una quantità straordinaria di eresie che, diciamo, finirono per, diciamo, per interessare molto, per esempio, gli studenti bolognesi e in particolare gli studenti che a Bologna studiavano nel collegio spagnolo, cioè erano spagnoli che avevano, diciamo, il privilegio di poter studiare a Bologna, sede importante, e ai quali Giorgio Siculo raccontò le sue idee e le raccontò anche in un libro che scrisse per dedicarlo ai cittadini di Riva di Trento, che lo avevano ospitato con onore, che gli avevano fatto predicare, che questo libro, appunto, questa epistola di Giorgio Siculo ai cittadini di Riva di Trento, che esce a stampa nel 1550, ma a questo punto, diciamo, il sospetto nei suoi confronti, nei confronti di questa predicazione visionaria che, diciamo, lasciava immaginare un cristianesimo completamente diverso da quello circolante, questa sua predicazione visionaria suscita sospetti, viene arrestato, viene incarcerato nelle carceri di Ferrara, dal duca di Ferrara, e viene, diciamo, probabilmente inquisito, ma non abbiamo il suo processo, viene soprattutto considerato talmente radicale, nelle sue opinioni, da essere portato al patibolo. E quando fu sul patibolo, questo è il fenomeno singolare di questa persona, vero, che viene a un passo della morte e deve abbiurare, allora lui promette di abbiurare. Quindi sono, come dire, la cerimonia sembra risolversi verso un esito confortante, tranquillo, con abbiura che poi avrebbe rimandato libero Giorgio Sicuro, e invece una volta che è sul, diciamo, sul palco da cui dovrebbe pronunziare l'abbiura, lui invece predica le sue vere convinzioni, e sono convinzioni così radicalmente eretiche che viene subito riportato in prigione e non viene più riportato davanti al, diciamo, al popolo per fare una volta almeno avere una vera abbiura. Il duca lo fa strozzare durante la notte e la mattina lo espone col cadavere penzolante da una finestra del castello che c'è ancora oggi appunto a Ferrara. Quindi questo è uno dei tanti casi, uno dei tanti casi. Ci sono degli studenti, ho parlato di monaci fino ad ora, di cardinali. Prendiamo uno studente, c'è uno studente che si chiama Pomponio Algeri da Nola, uno studente che veniva da Nola e studiava all'Università di Padova, una delle due grandi università italiane, Bologna da un lato e Padova dall'altro. Ebbene, viene arrestato per sospetto di eresia nel 1555, aveva poco più di vent'anni, viene arrestato, si rifiuta di riconoscere l'autorità del Papa e viene allora condannato e trasferito a Roma perché vi sia eseguita la sentenza. Nelle sue idee, diciamo, l'ordinamento della Chiesa, l'ordinamento dottrinale, vede la cancellazione del papato, la negazione della confessione, la negazione del purgatorio, uno dei punti dottrinali che si era elaborato nel corso del Medioevo. Nega il valore delle indulgenze, quelle che avevano suscitato la protesta di Lutero. Ha un'opinione di uno studente che si è letto Erasmo, ovvero che ama il cristianesimo così come è descritto da Erasmo e da lì ne ricava conseguenze ereticali. Il 19 agosto 1556 viene ucciso in una maniera specialmente barbara, viene portato in piazza Navona e lì muore immerso in una caldaia bollente di olio, pece e trementina. Questa è la sorte di Pomponio Algeri, il quale gode oggi di una lapide commemorativa proprio a Padova dove studiava. E c'è un altro caso che vale la pena raccontarvi, ormai ho esaurito, sto esaurendo il mio tempo e durerò ancora poco insomma, ma almeno i casi principali devo dirveli. Devo raccontarvi per esempio la straordinaria vicenda di Francesco Spiera, un giure consulto che abitava a Cittadella, nel Veneto di oggi, nello spazio della Repubblica di Venezia. Viene inquisito per le sue dottrine, per quelle che lui raccontava in giro, che erano dottrine di tipo protestante, radicale. Lui si ispirava soprattutto alla dottrina ormai diffusa di Calvino, che aveva un punto fondamentale nella dottrina della predestinazione. Calvino aveva elaborato una teoria, come saprete, appunto in cui una teoria religiosa in cui dominava un dio potentissimo e totalmente indifferente alle condizioni umane che predestinava coloro che sarebbero stati salvati e avrebbero vissuto per l'eternità alla destra del padre e coloro che invece sarebbero stati precipitati nell'inferno. Nel sistema di Calvino non c'è il purgatorio, che è una delle prime caselle della dottrina cattolica appunto che vengono cacciate via dai sistemi dei riformati. Vincesto Spiera diffonde le sue idee e abbiura però nel 1547 in piazza San Marco, ma dopo questa abbiura si convinse di essere tra i predestinati alla dannazione. sulla base del principio, se voi non mi riconoscete davanti agli uomini, io non riconoscerò voi davanti a Dio Padre. Ebbene, si convince di essere destinato alla dannazione eterna e questa cosa lo tormenta in maniera tale che lui non riesce a calmarsi, non dorme, non mangia, soffre moltissimo. E a tutti quelli che gli chiedono, vedendolo così amaciato in Padova appunto, che gli chiedono perché soffre tanto, lui risponde che si vede già assannato dai demoni appunto nell'inferno, sa che lo aspetta questa eternità di strazzi e non riesce, diciamo, a acquietarsi perché sa di avere compiuto un peccato imperdonabile. Gli studenti lo circondano, lo ascoltano, sono studenti di tutta Europa. Padova rimase a lungo, una città diciamo al di sopra delle divisioni religiose perché la Repubblica di Venezia ne garantiva la permanenza e non li perseguiva. Questi studenti scrivono alle loro famiglie. La storia di Francesco Spiera diventa una storia europea, la si sa in tutta l'Europa, rimane come una specie di spettro per tutte le diciamo forme di tipo calvinista delle devozioni che si affermano allora in Europa. Ancora a distanza di un secolo ci saranno delle persone che ricordano di aver letto questa vicenda di Francesco Spiera e che da questo hanno imparato che bisognava, diciamo, mantenere fede alla fede una volta scelta, non tradirla. Dicono se non avessi conosciuto Francesco Spiera io non avrei seguito la mia via impavidamente senza piegarmi. Quindi è un caso europeo, un caso europeo di propaganda a favore della dottrina calvinista che nasce dalla disperazione di quest'uomo che viene descritto in queste lettere degli studenti come un uomo che all'improvviso cerca di balzarsi su di una spada che ha un giovane al fianco per infilzarci, che vorrebbe buttarsi dall'alto di una rupe, che vorrebbe morire prima per non soffrire più perché tanto sa già che la sua dannazione è certa. E ci fu un vescovo italiano che incontrò Francesco Spiera e che dall'esperienza dell'incontro ricavò l'impulso ad abbandonare l'Italia e a recarsi nei paesi della riforma. Si chiamava Pier Paolo Vergerio, era vescovo di Capodistria, era un ecclesiastico di notevole spessore, aveva svolto incarichi di alto livello per la Chiesa Cattolica, era andato addirittura a trovare Lutero negli anni 30 e ne aveva lasciato una descrizione che colpì moltissimo i suoi lettori, disse che appunto aveva visto non un uomo normale, ma aveva visto una specie di figura terribile che aveva degli occhi di fuoco e ebbe anche l'impressione di avere un diavolo seduto sulla spalla di Lutero. Questa immagine di Lutero fece molto effetto ai suoi lettori. Ebbene, questo vescovo Apile, di gran successo eccetera, si ferma però a Patova e lì incontra Spiera. In Contraspiera lui sta andando al concilio di Trento che intanto si era aperto per parteciparvi come vescovo, ma l'ascolto di Spiera disperato per essere in corso nella Danazione Eterna lo colpì a tal punto che non andò a Trento ma andò direttamente in Germania e si rese il propagandista più accanito della riforma protestante scrivendo opuscoli che ebbero una grandissima circolazione, quindi sfogò la sua vena di attività in questa funzione di italiano esule che invita gli italiani a lasciare la Chiesa Cattolica e a accettare la riforma. Questo per effetto dell'immagine che lo turbò moltissimo di Francesco Spiera disperato per avere abbiurato. Un episodio centrale per finire con questo brevissimo sintetico riassunto delle vicende più importanti della riforma protestante dell'inquisizione nel Cinquecento italiano è quello diciamo di uno che abbiurò ma lo fece con molta attenzione, si chiamava, era un sacerdote, si chiamava Don Pietro Manelfi, marchigiano, era diventato membro della setta radicale estrema della riforma, gli anabattisti, cioè coloro che negavano valore al battesimo degli infanti, dei bambini, perché il battesimo per essere vero doveva essere fatto da adulti consapevoli. E questi erano temuti dalla Chiesa, da tutte le Chiese in realtà, perché questa semplice scelta tagliava la radice alle Chiese che hanno bisogno di crearsi un popolo che sia tale fin dalla nascita, un popolo compatto, fatto di famiglie dove i bambini vengono battezzati e così via. Quindi anche Calvino era schieratissimo contro gli anabattisti. Ebbene, Don Pietro Manelfi era diventato uno di questi radicali, gli anabattisti, che seguivano diverse regole molto importanti per loro, insomma per esempio abolivano completamente le immagini della divinità, distruggevano le pitture. Ebbene, Don Pietro Manelfi a un certo punto si pente e va bussa alla porta dell'inquisitore di Bologna. L'inquisitore di Bologna era un Domenicano, un uomo di grande cultura, fratele Andro Alberti, un personaggio che fra l'altro ha lasciato un'opera in cui ha descritto tutta l'Italia che lui aveva percorso a piedi. Ebbene, bussa alla porta di fratele Andro Alberti e dice che lui vuole abbiorare. Allora il bravo inquisitore, con molta dolcezza e molta allegria, lo accoglie e prima di lasciarlo andare gli fa raccontare tutti i nomi che conosce di eretici. È una deposizione fiume, si riempie un libro. Di fatto oggi la confessione di Don Pietro Manelfi è raccolta in un volume di atti appunto in cui ci sono gli elenchi di nomi che lui fece e che dimostrano che questo vescovo aveva viaggiato per molta Italia, aveva incontrato molte persone e non fa soltanto la denunzia dei suoi compagni di gruppo, degli anabattisti. Denunzia anche i luterani, denunzia anche i calvinisti. Si trovano per esempio i nomi i nomi toscani, è vero, di luterani e di anabattisti. Anche quelli, diciamo, c'è per esempio un notaio che abita sull'Appennino Toscano, sul Montalbano, anzi sul Montalbano, presso Montecatini. È un notaio, vive lì con la moglie, roga i suoi documenti da bravo notaio e appartiene agli anabattisti. Io non so che fine abbia fatto, non abbiamo trovato tracce dell'eventuale suo processo, di fatto il suo nome è figura nell'elenco dei denunziati da Don Pietro Manilfi, il quale poi dovrà recarsi anche a Roma per ripetere davanti all'inquisizione centrale, è vero, la sua deposizione, dopodiché riceve un compenso in danaro e si ritira a vita privata e di lui non si sa più nulla. Un ultimo appendice che vi devo fare, semplicemente perché si tratta dei personaggi più importanti, in chi cerca, come dire, il frutto di una cultura estremamente elevata e raffinata e di un orizzonte religioso che si apre a diverse soluzioni. Devo parlare, cioè almeno accennare ai nomi di Lelio e Fausto Soccini, due senesi di grande cultura giuridica, Lelio è anche un docente di diritto, i Soccini o Sozzini anche come furono detti, erano proprietari di una vasta area con molti contadini intorno di Siena e si è scoperto che appunto riunivano i loro contadini per insegnare loro le dottrine che dovevano credere. Ed sono dottrine che hanno caratteri erasmiani, luterani, ma anche radicali, cioè il problema fondamentale, su cui arrivo rapidamente perché il tempo è largamente consumato, il problema fondamentale che sarà oggetto della riflessione di Fausto Soccini o Sozzini è il problema della figura di Cristo. Gli anabattisti, i radicali, giravano intorno a questo problema. Era veramente Dio o non lo era? Su questo Fausto elabora i suoi pensieri, le sue riflessioni e arriverà alla conclusione che Cristo era solo uomo e darà vita ad un raggruppamento elitario non numeroso, ovvero di Seguaci, che abbandonò l'Italia, fuggì davanti all'inquisizione, visse lontano dall'Italia e morì in un luogo che si chiama Lutoslavice in Polonia. in Polonia. Quando muore, lui ha costruito questa società che viene chiamata Degli Amici e sulla sua tomba fu inciso un motto che in tre versi dice che cosa pensavano i suoi seguaci di lui. Tre versi che dicono destruxit tecta Luterus, muros calvinus sed fundamenta socinus. Cioè Lutero ha distrutto il tetto della Chiesa. Calvino ne ha demoliti le mura, ma Socino ha distrutto le fondamenta. Sì, perché togliendo come dire la divinità a Cristo, questa religione rimane una religione diciamo nell'umanità sostanzialmente. I fratelli sociniani appunto saranno una setta che poi attraverserà l'oceano, ovvero avrà radicamenti in Inghilterra e soprattutto in America, come setta che pratica la non violenza, la fraternità eccetera. Sì, vedo dei segni che mi dicono che forse dovrei davvero concludere. Vi dirò soltanto che la triade ottocentesca dei processati, quelli casi celebri che rimasero dal Seicento in poi, rimasero vivi nella memoria italiana e vennero riscoperti nel momento in cui l'Italia si stacca dalla Chiesa e nasce lo Stato italiano. Sono i casi di Giordano Bruno, Tommaso Campanella e Galileo Galilei. La storia di Giordano Bruno vorrebbe la pena di essere fatta, ma ve la buono. Vi ricordo soltanto che i monumenti che vennero costruiti nelle grandi nazioni dell'Ottocento furono colonne della libertà, furono la statua della libertà all'ingresso degli Stati Uniti. Per l'Italia l'elogio, l'esaltazione della libertà fu fatta da un gruppo di studenti che si organizzò e riuscì con incredibile tenacia e abilità a raccogliere i denari e il consenso per costruire in piazza, in campo dei fiori a Roma, il monumento a Giordano Bruno. Un personaggio il cui pensiero era certamente poco chiaro anche a questi studenti, ma la morte di quest'uomo era rimasta segreta per secoli. quando Ludwig Pastor, che poi divenne il barone von Pastor, si recò in Italia, dove doveva lavorare all'archivio romano, quando scese da Cavallo a Verona, la prima domanda che gli posero è vero che Giordano Bruno è stato ucciso dall'inquisizione e lui non fu in grado di rispondere a questa domanda perché mancava ogni traccia, la Chiesa non dava nessuna risposta e la sua sorte era rimasta sconosciuta finché il capo di governo, Francesco Crispi, verso la fine dell'Ottocento, ricorse a una via era in qualche modo laterale, cioè impose alla confraternita di San Giovanni De Collato di Roma di depositare i suoi registri nell'archivio di Stato. Era la confraternita che confortava i condannati a morte e teneva l'elenco delle cause a cui si associava per confortare, cioè per portare al patibolo il condannato pregando per lui e cercando di farlo convertire. Ebbene in questi registri c'era la notizia di come Giordano Bruno era stato bruciato vivo in campo dei fiori e quindi la sicurezza della morte per mano dell'inquisizione di Giordano Bruno si ebbe soltanto allora. Mi fermo a questo punto perché dovrei parlare parlare dell'aspetto femminile delle denunzie, è vero, queste monache dei conventi furono anche loro portate in processo per esempio perché per farsi strada nella società per acquistare un qualche nome per esempio dicevano che si nutrivano soltanto di ostie e quindi prendevano l'aspetto di una devota già santa in terra, è vero che poteva permettersi addirittura di non mangiare e allora fu l'inquisizione a creare il reato di affettata santità e processò molte di queste figure. Questo per dire che l'inquisizione non resta ferma alle dottrine del Cinquecento, si evolve e quindi man mano che si affaccia una, diciamo, una deformità della fede o un abuso della fede conia, diciamo, una eresia specifica. Un'eresia specifica e in questa maniera, diciamo, la macchina dell'inquisizione va avanti. Per esempio una delle eresie, diciamo, delle pratiche da punire in maniera severa che fu inventata e resa pubblica in generale verso il 1622 fu la, diciamo, sollicitazio ad Eturpia. Diciamo, la Chiesa romana aveva reso obbligatoria la confessione ogni anno e aveva incaricato anzi i confessori di raccontare se i loro penitenti, diciamo, erano anche eretici o conoscevano in famiglia degli eretici, quindi, diciamo, alimentando una fornitura di sospetti eretici anche attraverso il Tribunale della Confessione. Però quello che succedeva nel confessionale inventato da San Carlo Borromeo, quello che riempie anche le nostre chiese attuali, quella specie di struttura fatta per dividere e per unire, cioè unire la bocca del penitente al confessore e dividere loro due da tutto il resto delle persone che ci sono dintorno. Quello che avviene dentro il confessionale è la confessione di peccati che sono ormai nel catechismo cattolico fondamentalmente i peccati dei sensi, i peccati, diciamo, della carne, vero? E il confessore che confessa una donna per i suoi sogni, desideri e i peccati di carne non si limita a confessarla, ma, diciamo, la seduce, nasce la sollicitazio ad Eturbia, cioè l'invito alla donna, vero, a consumare col suo confessore altre cose che non è, vero, la devozione religiosa. E in questa maniera si è, diciamo, come dire, sedimentata nella struttura ecclesiastica per secoli questa libertà del prete, vero, di allungare le mani e le parole verso gli oggetti del suo desiderio e di cavarsela poi con un pentimento anche lui in confessione e di costringere la donna o il minore che ha subito, vero, queste sollecitazioni a andare in tribunale per denunziare il prete. Con risultato, diciamo, che il prete se la cava e il sollecitato o la sollecitata invece entra in un circuito infernale in cui perderà certamente la sua fama di buoni costumi e avrà da soffrire anche tutte le conseguenze di questo. Cioè nasce qui allora un fenomeno che abbiamo conosciuto nel secolo scorso, vero, nel secolo scorso, no, veramente all'inizio, scusate, all'inizio di questo secolo su una denuncia del Boston Globe ha conosciuto la denuncia del, diciamo, della quantità di rapporti carnali intessuti da sacerdoti con minorenni e da qui è nata una tempesta che ha avuto effetti sconvolgenti, vero, su tutto il mondo cattolico. Pensate che l'Irlanda, paese che nel suo cattolicesimo aveva costruito, diciamo, la sua storia di nazione, diciamo, in qualche modo libera e ribelle nei confronti dell'anglicana Inghilterra che la possedeva, l'Irlanda ha perduto praticamente la totalità dei cattolici. Forse potrei a questo punto aggiungere una domanda alla quale io non ho risposta, cioè sappiamo quanti casi di sollecitazione di questo genere ci sono stati in Irlanda, li sappiamo per molte diocesi americane, i cui vescovi e cardinali hanno dovuto pagare riscatti, diciamo, salatissimi, vero, dalle loro casse. Non sappiamo ancora quanti ce ne siano stati nell'Italia che nominalmente, avendo concordato gli altri patti lateranensi in Costituzione, è ancora un paese che ha un rapporto speciale con la Chiesa di Roma, però a noi ancora nessuno ha detto quanti casi di questo genere ci siano stati. E a questa domanda non potrei rispondere. Vi ringrazio, ho largamente superato il tempo che mi era stato messo a disposizione, pazienza, vedo che non ha potuto resistere alla noia, se ne sarà andato a questo punto. Grazie. Grazie Adriano, non se ne è andato nessuno e hai fatto benissimo a prenderti il tempo che desideravi e che era necessario, perché anche questa conclusione, diciamo, che porta all'età contemporanea, soprattutto per i temi prevalenti della scuola, sta veramente a pennello. Una lezione importante, equilibrata, che mostra anche i progressi della Chiesa sul piano delle norme penale nella istruzione dei processi e quindi non pecca certamente di faziosità laica, no? E però mostra la sostanza effettiva del controllo e anche, diciamo, della ferocia, perché, diciamo, io naturalmente non ho letto carte dei processi, ma per esempio attraverso Firpo conosco il processo a Tommaso Campanella, insomma, le torture che Campanella ha subito. Va bene. Io, tuttavia, e poi lascio la parola agli amici, alle amiche che vogliono intervenire, e ti vorrei, diciamo, un po' spostare verso, diciamo, la storia del nostro paese, cioè questo controllo così sistematico, così persistente della Chiesa, poi sul mondo popolare, no? Sul mondo popolare, soprattutto sul mondo delle campagne, nell'Otto e nel Novecento, con questa durata storica, che cosa ha significato? Perché noi abbiamo visto, tu giustamente mostravi come la Chiesa ha risentito del rinascimento italiano, no? Hai citato Lorenzo Valla, con, diciamo, la scoperta della falsa donazione di Costantino, ma soprattutto, no? Diciamo, c'è un'area di libertà che circola e che tocca anche fasce del popolo, no? Hai ricordato il libro, il libro di Carlo Gisborne su Franti Gisborne, eccetera. Questa libertà che era stata, la libertà anche eretica, che era stata repressa per secoli nel Medioevo, in quel momento poteva conoscere forse uno sbocco diverso e, come dire, il Concilio di Trento dà una risposta razionalizzante, diciamo, ai problemi della Chiesa, sposta in avanti, diciamo, con un salto organizzativo e disciplinante o superiore, diciamo, ma il suo potere non solo diminuisce, ma il suo potere della Chiesa sulla società italiana aumenta, eccetera. Quindi, che idea ti sei fatta tu su questo aspetto che è un po' l'originalità della storia, del modo con cui l'Italia si affaccia alla modernità. Begge. Ma è una bella domanda, una bella osservazione, perché è qualcosa che, diciamo, fa parte della mia vita, perché io sono nato in un'Italia contadina, dove non esisteva più lo Stato, era scappato a gambe levate, non parliamo dei fascisti, eccetera. Però la Chiesa c'era ancora, la Chiesa c'era ancora. Ebbene, il problema della Chiesa si rispecchiava nella realtà dei contadini. Quelli che io ho conosciuto, erano molto diversi, naturalmente, da quelli che ancora oggi sopravvivono, quelli che io ho conosciuto erano, nella stragrande maggioranza, dei mesadri, oppure erano dei braccianti, gente che viveva con quello che riusciva a guadagnare, con vite durissime, in cui erano implicati anche i bambini, eccetera. Ma la cosa fondamentale, diciamo, che questa gente desiderava, almeno quelli che ho conosciuto io, per la loro volontà di conoscere, di ragionare, eccetera, la cosa che desiderava era la conquista del sapere. C'è un sociologo che ha fatto una bella ricerca sopra un'area toscana che conosco molto bene, che oggi gode di una grande ricchezza, e che nel 1945 invece era in condizioni di grande miseria. Ebbene, la sua statistica ci dice che nel 1945 l'aspirazione fondamentale dei contadini era quella di conquistare il saper scrivere e il saper leggere, perché spesso non lo sapevano fare. Firmavano con una croce, vero, i consuntivi ogni anno del proprietario terriero. Però desideravano questa liberazione dalla vergogna del non sapere, dell'essere soggetti a chi sapeva. Dopo la liberazione questa libertà arrivò. La libertà arrivò e ne fui implicato anch'io in qualche modo, perché potevi procedere verso il concorso per entrare nella scuola media, allora si entrava per concorso, perché era la strada che portava più lontano e quindi era riservata a pochi. Però poi non è successo molto. Questo sociologo ha fatto il conto di quanti laureati esistevano allora in questa provincia da lui studiata, una provincia rossa in particolare, e quanti altri titoli scolastici vi esistevano. Ha rifatto il conto con i dati di fine secolo, all'inizio del nuovo secolo. Le modifiche sono pochissimo sensibili nel settore dei laureati. I laureati erano rimasti pochi, una minoranza. Però erano cresciuti moltissimo coloro che avevano un diploma di geometra e un diploma di ragioniere. È molto semplice. Erano arrivati il piano Marshall, i contadini avevano lasciato la terra, erano andati in fabbrica o avevano aperto negozi, eccetera, eccetera. Rapidamente era stato necessario avere nella bottega o nell'azienda qualcuno che tenesse di conto e amministrasse, ed ecco che i figli vanno a studiare e diventano ragionieri, oppure diventano geometri e seguono la grande esplosione edilizia del dopoguerra. Quindi alla fine il benessere ha lasciato il posto al desiderio, l'aspirazione al sapere. È una conclusione un po' amara, ma siccome l'Italia di oggi ci dà tante forme di amarezza, forse sarà bene cercare di capire come mai. È una cosa bellissima, voglio dire, il desiderio dell'emancipazione civile e personale. Infatti l'unificazione linguistica dell'Italia che avviene attraverso la televisione e che supera lo specialismo dei dialetti, l'isolamento dei dialetti, dà diritto alla parola. È impressionante la differenza anche dell'Italia e da altri paesi cattolici. Io in questa storia dell'Ottocento non ho potuto trovare persone che ci abbiano lasciato i loro pensieri. Ho potuto vedere che consumi avevano, terribilmente magri, che vite conducevano. Però dalla Svizzera italiana mi hanno segnalato l'esistenza di un diario, di un contadino che nasce nel Settecento, muore a Ottocento inoltrato e ha tenuto quattro volumi di diario durante la sua vita. Un contadino che aveva anche avuto cariche nel suo villaggio, era diventato capovillaggio, eccetera. Ogni giorno lui annotava la tristezza, la miseria, la fame, i figli che hanno dovuto andare via per trovarsi lavoro. E come mai un contadino cattolico del cantone italiano, ovvero poteva andare a scuola e imparare tante cose, e un contadino italiano no. È molto semplice. Lui era in Svizzera, non era in Italia. In Italia i contadini a scuola non ci andavano. Andavano a catechismo se dovevano fare la prima comunione, per qualche domenica, insomma, ma non imparavano a leggere e a scrivere. Questo è rimasto la sorte del contadino in Italia, a partire da quando, col concilio di Trento, quello che gli rimane della religione è la messa. Sentire messa, diceva Manzoni. Sentire messa ma non capire, niente capire. Diceva Gramsci, che aveva conosciuto Santa Bisodia, sentendo recitare, il paternoster. E quanti di noi hanno imparato, tanti modi per tradurre il latino in volgare. Ma la barriera del latino rimase quella sociale di classe, tra il parroco e il contadino. Bene. C'è qualcuno che vuole fare domande al professor Prosperi? Piero? Di chi è? Se posso, sono Marco Ginarneschi da Firenze. Marco, vai, grazie. Volevo non fare... Tu immagino che lo conosca. Esatto. Siccome l'ho conosciuto, devo dire, tramite Roberta Perugini a Fiesole, in occasione del premio per la cultura, che gli è stato assegnato l'anno scorso, devo dire, ecco, così magari integriamo la bibliografia che hai citato del professore, perché io non sono né medievalista né di storia moderna, ma mi occupo, semmai, ho un dottorato in storia delle relazioni internazionali, quindi di storia contemporanea, però ho avuto il piacere di leggere Un tempo senza storia, che è questo libro sulla distruzione del passato, piuttosto recente, mi sembra del 2021, del professore, e che mi è servito come... mi è stato piuttosto illuminante, perché poi ho finito per citarlo in questo articolo sulla carbonara che sto per pubblicare e che è un'analisi socio-economica della carbonara, ma dal punto di vista della influenza, della lotta per conquistare la memoria dei consumatori. Bene, quindi come gli attori economici conquistano tramite la carbonara la memoria dei consumatori. E siccome il libro del professore è sulla memoria, ecco, devo dire, io vi esprimo qui pubblicamente tutta la mia gratitudine per questo piccolo libro concentrato di riflessioni sulla storia, il tempo e anche la memoria che cambia a seconda dell'epoca, dei regimi. È stato molto interessante questo libro, per cui io la ringrazio moltissimo. Invece sull'Inquisizione, devo dire, ho appreso oggi, ma leggerò il suo libro del 97, se non ero del 98, lo leggerò e poi se avremo occasione le farò le mie domande di persona a Firenze appena possibile. Grazie, grazie ancora per quello che ci ha detto. Grazie a lei, mi mandi il suo indirizzo, il suo libro, se ne ha uno in più. Te lo mando, te lo mando, grazie, grazie. Grazie, va bene. Marco Ciannisco, Ciannisco. Professore, posso farle una domanda? Sì. Prego. Buonasera, buonasera, sono Giovanni Di Teodoro, sono dottorando a Roma, Tor Vergata, in storia moderna. Grazie per la lezione, che mi è stato il link, mi è stato gentilmente inoltrato da un amico. Vorrei chiederle una questione che riguarda l'esecuzione capitale dell'Inquisizione romana, cioè c'è un principio del diritto canonico che riguarda il versamento del sangue umano, che è rifiutato categoricamente dai principi cristiani, cioè l'espressione ecclesia a borretta sanguine, e come si sposa tutto questo, come si concilia, se c'è una contraddizione forte tra il condannare a morte, una sorta di, come dire, ipocrisia velata dell'Inquisizione che in realtà non condanna a morte, ma consegna al braccio secolare, come se fosse un distaccamento della responsabilità. E poi vorrei chiederle una questione che magari è un po' più specialistica. Io mi occupo di Settecento, in particolare del pontificato di Prospero Lambertini, che è stato un papa giurista e nel suo pontificato, 18 anni di pontificato, dal 1740 al 58, si contano a Roma, secondo la rubricella del decollato, che ho avuto modo di consultare, accedendo anche al loro archivio, oltre a quello che conservano in archivio di Stato, si contano 66 esecuzioni capitali. Tra di queste, però, tra queste, non c'è neanche un giustiziato da parte dell'Inquisizione romana, non c'è neanche un processato dell'Inquisizione romana. L'ultimo, che ricorda anche quel libricino di Domenico Norio, Liberi condannati a morte nel Cinquecento, eccetera, dall'Inquisizione, l'ultimo è un certo Giuseppe Morelli di Macerata, che nel 1761, sotto il pontificato di Clemente XIII, fu impiccato a Campo dei Fiori e condannato all'abbruciamento di cadavere. Il corpo, però, non fu bruciato per volontà del governatore di Roma, che preferì, come dire, fare l'abbruciamento in privato, e non davanti al pubblico. Quindi ci fu solo l'impiccagione a Campo dei Fiori. Di questo caso ne parla anche Andrea Del Col, in l'Inquisizione romana edito da Mondadori, e vorrei chiederle, c'è un'attenzione nel Settecento, l'Inquisizione romana nel Settecento mi pare che sia stata poco studiata rispetto ai due secoli precedenti, c'è un accanimento feroce, però, da parte dell'Inquisizione e anche dei papi a scovare i falsi preti. Cioè, Giuseppe Morelli da Macerata fu condannato a morte come falso prete, era già successo nei primi del Settecento e oltre all'accanimento contro la Sollecitazio ad Turpia, c'è questo reato che è particolarmente insomma importante. E poi un'ultima questione, forse, tra gli elenchi dei giustiziati che lei ci ha ricordato abbastanza famosi, adesso sta per uscire il libro del nostro amico Vincenzo Lavenia su Flaminio Fabrizi che dovrebbe, come dire, aggiungere un tassello in più a questa lunga serie un po' magabra di giustiziati. Grazie. Grazie a lei, lei ne sa più di me per certi aspetti. Io posso dire però una cosa importante, ma intanto sono d'accordo con lei nell'aspettarmi da Vincenzo Lavenia a Miracoli perché è lui praticamente colui che è riuscito a bandare in porto questa impresa del dizionario storico dell'Inquisizione che io suggerì alla mia scuola che fu fatta e che è stata uno strumento utile, tra l'altro ci ha fatto lavorare tutti insieme, ma certo di tutti colui che ha lavorato di cui è stato certamente Vincenzo Lavenia e promette di andare avanti con la stessa velocità. Per quanto riguarda l'esecuzione capitale certo il sacerdote non si deve sporcare di sangue e quindi se ne occupa il braccio secolare anche perché appunto il sacerdote si occupa dell'anima mentre il potere secolare deve diciamo dimostrare che protegge la verità eccetera eccetera ora da questo punto di vista i singoli casi sono sempre molto interessanti io voglio voglio solo dirle una cosa che secondo me non ha avuto l'eco che avrebbe meritato nessuno si è mai stupito che per millenni la Chiesa abbia ratificato il potere politico a partire dall'Epistola di San Paolo ai Romani non c'è potere se non da Dio e da quella frase hanno ricavato sempre diciamo l'abbraccio della Chiesa al potere politico esistente un abbraccio diciamo pericoloso ma ha funzionato sempre e poi anche la storia di come la pena di morte è stata amministrata come un atto di devozione io sono rimasto impressionato e anche un po' travolto dalla quantità di diciamo confraternite che si occupavano di confortare i condannati a morte le loro cappelle e ne ho fatto soltanto un elenco sommario ma me ne sono trovate anche qui in provincia di Pisa in luoghi che non avrei mai immaginato ce n'è una bellissima cascina a poca distanza da qui che ha freschi del 300 quindi ecco perché la Chiesa ha sempre ratificato la pena di morte e se è sempre legata ad un potere che lo potesse fare che allo stesso tempo quel potere lo usasse per lei non lo so sta di fatto che in punta di piedi poco tempo fa la pena di morte è uscita dalla Chiesa Cattolica c'è stata una riforma da parte dell'attuale pontefice regnante del catechismo della Chiesa Cattolica che aveva avuto la sua ultima riforma con Papa con Papa Ratzinger mi pare no forse Poitiva l'ultima forma circolante era quella mi pare ebbene lui ha sotto sotto un po' sotto il livello di attenzione ha fatto rimettere in bozze questo catechismo e dove la pena di morte veniva definita diciamo opportuna per punire eccetera eccetera lui ha cambiato completamente il testo ha fatto cambiare il testo dove si legge che la pena di morte è maledetta è una cosa da cancellare odiosa eccetera eccetera colmata di aggettivi negativi e in punta di piedi quindi la Chiesa è uscita dalla stagione della pena di morte tardi ma insomma si dice sempre meglio tardi che mai perché veramente se c'era un fenomeno curioso questo mio libro sul delitto e perdono dove ho rovesciato il titolo di Dostoevsky proprio per dire questa stranissima cosa ovvero che il delitto viene perdonato però viene fatto morire il delinquente adesso non avrebbe più ragione di essere perché la pena di morte non trova più la sanzione da parte del supremo potere della Chiesa Cattolica non so quanti lo seguiranno volentieri questo nuovo dettato però intanto è qualcosa che dice tutto sommato tra questa Chiesa e il suo ispiratore evangelico all'inizio insomma le distanze sono un po' diminuite comunque sarò grato se mi farà avere notizia del suo lavoro anche a lei perché io ormai sono davvero a riposo e quindi le cose le seguo in maniera molto parziale grazie buon lavoro tanti auguri grazie grazie mille bene se non ci sono altre domande lasciamo libero il professor Prosperi tornandolo a ringraziare per la sua splendida lezione per il contributo di conoscenza che ci ha dato per aver contribuito ad arricchire la nostra scuola se non c'è nessuno no mi unisco ai ringraziamenti sarei rimasto ancora affascinato ad ascoltare ancora per un'altra ora il professore è un tuffo un tuffo nella storia è veramente sono stato trascinato dalla sapienza del mio vecchio amico a dire un sì che ho esitato molto a lungo a dire però adesso che c'è stato questo incontro grazie a voi è sempre così sei un maestro caro Adriano è importante vedere anche attraverso lo schermo vedere come dire giovani che studiano e amici che lavorano sì mi ha fatto molto piacere quest'ultimo intervento no perché diciamo vedere dei giovani che continuano il nostro mestiere di storici grazie ancora Adriano buonasera grazie arrivederci arrivederci grazie vediamo un po' ecco va bene sì grazie 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 grazie